è un bizzarritto questo è lì è un bizzarritto andavo dove volevo allora guarda Caino stracorri un po' però la vai e ho visto ma qui non c'è tanto adesso salti giù vai dentro sotto il posto per tutto il lavatoio tutto il lavatoio bella molle dovevo andare di là era più bella vai 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 vedi ti fa con lo schermo lì non c'è me guarda 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 quella è andata a rifarla perché l'ha fatta male è andata a rifarla perché non gli è piaciuta come l'ha fatta di là è e spampi perché la rifà il lele è rimasto là e l'aspettarci che finiamo il giro va basta via andiamo a 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